Buongiorno ragazzi, io sono Marti, c'è la musica quindi non so come farò con questa parte di video ma niente sto partendo per un weekend e quindi intendo vloggare non mi si vede niente, vabbè, comunque vi farò vedere poi il viaggio dove vado e tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un posto bellissimo pieno di animali, non so quanto mi si vede o mi si sente ma dopo vi metto qualche foto e qualche video che ho fatto agli animali Questa è una fattoria a un maso in Trentino e sono offentissima perché qua gli animali sono liberi di scorrazzare, non sono chiusi in gabbia quindi è bellissimo Ci sono asini, maiani, mucche, pavoni, galline, c'è un po' di tutto ed è pazzesco, adesso mi porto un po' in giro, vi faccio vedere il panorama e questo E' un po' in giro, e questo è un po' in giro, e questo è un po' in giro, e questo è un bellissimo posto, probabilmente mi prenderò anche la giornata di domani però saremo in un posto diverso Then dopo vi faccio vedere queste situazioni E' un po' in giro E' un po' in giro Ciao, ciao Pony Non so se si vede, ma ci sono gli emu Vai avvicinarmi, ma non so quanto si veda Comunque, niente, io non sto vedendo quello che sto filmando, quindi lasciamo poter E poi siamo qua qui, facciamo quanto si vede, c'è un'altra città che manda, e altri che Questo posto è bellissimo Arrivo, eh Ciao 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 Eccomi qui, faccio un po' vedere a Merano, in centro, stiamo facendo un giro Scusate se non vedete molte parti parlate, ma c'è gente da evitare di dare fastidio Io vi saluto, vi faccio vedere alcune cose, guardate sul piattone, ma lasciamo perdere Spero che mi sentiate più che altro, non perché appunto c'è gente, però aiuto, non vi faccio vedere qualcosa dai Ciao 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 Grazie a tutti. Eccomi ragazzi, sono arrivato all'albergo dove sto questa notte. E poi vi faccio vedere la vista, la camera mia, perché è qualcosa di pazzesco. Scusate se prima di questa clip non avete visto tanto, ma devo vlogare anche domani. Cioè domani è già tutto programmato. Saremo a Simeone sul Garda e vedremo due cose. Poi mangeremo Vistalago. Quindi sto cercando di fare clip piccole perché se questo video mi dura tanto, poi è un po' un casino. Sono su queste sedia che si muove e lì come vedete c'è la vista. Una cosa bellissima. Noi tra poco ci prepariamo. Andiamo a mangiare. E non so cosa mangeremo. Poi vi metterò ovviamente le foto dei piatti. Non so se potrei prendere e niente. Ci vediamo dopo. Scusate ma la vista è questa. Io... E scusate anche per le mie condizioni, sempre pessime, però... Vabbè. Ora rientro perché sono in sempre. Fa abbastanza sedo comunque la vista è questa. Dietro sono le montagne. E quelle lì sotto sono dei vigneti. Quindi molto bella la vista. E poi ovviamente magari vi farò le conclusioni. Domani vi dirò bene o male com'è stato il tutto, però... Vi voglio bene. Mi mando un altro bacio. E rientro perché fa veramente seduto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno così, tra questo il mio outfit di oggi. Forse mi dovrei anche un po' truccare perché sono pessima. Ma non potevano andarvi di buongiorno con questa vista meravigliosa. Poi lo piavano perché è prestissimo, ci sa. Gente a letto, comunque oggi andiamo alla volta di Sirmia nel Sud Garda. Ovviamente ve lo piavano anche lì. E prima però andiamo a fare adesso per colazione a Corredor in Vallinon. E madonna santa, quanto sono brutta oggi. Aiuto. Comunque. Faccio vedere meglio la vista. Cioè, è una cosa meravigliosa. Niente, non mi si vede. Quindi questo vlog sarà un'intera sconnessione di cose come sono io. Però, va bene. Comunque, vi dicevo, vi mando un bacio. Sì, vi devo preparare. Se non andare via, niente. Proverò a farvi qualche foto così dopo me la metto. Perché la vista è una cosa spettacolare. Sì, siamo a Corredor. Per la colazione. Ci siamo fermati a prendere le fermagge non caseifici. E adesso vado verso la mia meritatissima Sake. Che è la mia tutta profeta. Mamma mia. Le scale sono qualcosa di incredibile. Comunque, ho fame. E ne ho preso cosa ho preso. Calmente delle foto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.